Il tennis è uno sport senza età e talvolta senza barriere di categoria. Lo sanno bene al Tennis Club Baratov, dove questa mattina, per il secondo anno consecutivo, è andato in scena un curioso incrocio di racchette. Da una parte Luca Nardi, 19 anni, enfant prodige del tennis pesarese e attuale numero 126 al mondo, dall'altra Catervo Cangiotti, imprenditore di lungo corso e inesauribile veterano della racchetta che per i suoi 85 anni ha ricevuto il regalo di una sfida col campioncino partorito dal circolo Baratov. Compleanno in realtà anticipato di qualche giorno, considerata la prossima partenza di Nardi verso l'Australian Open di gennaio. Anticipo perché Luca deve andare in Australia a fare i famosi tornei dello Slam e quindi parte prima, per cui abbiamo dovuto anticipare questo incontro con Luca, che mi ha fatto la cortesia di dire, va bene, per il tuo compleanno facciamo un po' di palleggi. Lui ormai è diventato veramente una stella, speriamo che diventi veramente come Musetti, come Sinner, come loro. Per i talenti difficili che nascono oggi, perché nel mondo il tennis, dopo il calcio, è lo sport più praticato e quindi sono milioni di praticanti, è difficilissimo emergere, però insomma col lavoro qui c'è una buona scuola, sono dei buoni maestri e quindi ci sono anche dei ragazzini giovani che giocano benissimo. Sì, Catermo qua gioca sempre tutti i giorni, io poi lo conosco da sempre, quindi mi fa molto piacere che mi abbia chiesto di potergli fare questo regalo. Abbiamo giocato anche l'anno scorso, c'è per il suo compleanno e spero che quest'anno possa essere bello uguale. Per Luca Nardi si chiude un 2022 che può considerarsi l'anno della consacrazione. È stato un bel anno, comunque sono venuti fuori dei bei risultati, quindi sono comunque soddisfatto. Adesso mi sto allenando per il prossimo anno e spero che ci siano altrettanti buoni risultati. E il 2023 riparte alla grande con gli Australian Open. Io parto il 26 dicembre, farò un torneo prima e poi giocherò le qualificazioni. Nardi sempre in giro per il mondo ma allo stesso tempo sempre di ritorno a Pesaro col circolo Baratov che si conferma il suo luogo d'allenamento prediletto. Io qua sono da quando ho sette anni, sono sempre stato qua e qua conosco tutti quanti da sempre, mi sono sempre trovato molto bene, sono tutti quanti molto gentili, quindi io penso che continuerò sempre ad allenarmi qua. Luca è nato qui, a sette anni ha cominciato a palleggiare con suo fratello Nicolò che già giocava qui e oggi è il fiore all'occhiello della scuola ma non c'è solo Luca, ci sono altri ragazzi che stanno arrivando e si faranno conoscere presto dal grande pubblico perché non conosco la ricetta della scuola però è evidentemente una ricetta vincente perché, ripeto, oltre Luca ci sono anche altre persone, altri ragazzi, soprattutto ragazze anche in questo momento, che sono di interesse nazionale. Varelli è credo che sia la numero due in Italia degli under 12, quindi adesso non vorrei sbagliarmi molto sulla posizione precedente di classifica, però è un fenomeno anche lei e ovviamente anche lei, insomma, ripeto, è orgoglio della scuola e del circolo Bardoff in tutto e per tutto. Speranze di Ronny Murrone che proprio il primo dicembre è diventato il nuovo presidente di un circolo che in estate ha compiuto la cifra tonda di 40 anni. Soprattutto un onore, l'onore è talmente, è grande quanto l'onore quasi, ma è un onore avere praticamente la responsabilità di questo circolo. Credo che sia, anzi sicuramente, l'unico circolo che da un punto di vista agonistico può disporre di due squadre, sia maschile che femminile, nel campionato di Serie A2 di tennis a livello nazionale. Quindi è un orgoglio farne parte, è un orgoglio vedere crescere i ragazzi della scuola, è un orgoglio vedere i soci che stanno bene, che si diversano, insomma, che comunque hanno un senso di appartenenza forte.